Ciao a tutti, sono Nicola Chiriano, insegno matematica e fisica al liceo scientifico siciliano di Catanzaro, dove sono anche animatore digitale. Questa emergenza, questo periodo terribile, dal punto di vista dell'approccio tecnologico, devo dire la verità, non ci ha trovato impreparati, perché già da diversi anni avevamo installato Google Suite, Google Classroom e pian piano tutte le varie applicazioni che ci hanno permesso già di formarci come docenti, anche nell'approccio i ragazzi, all'uso di queste tecnologie per implementare qualcosa in più rispetto alla didattica tradizionale, per corroborare quello che si fa in classe in maniera tradizionale. Chiaramente non è soltanto questo. Noi abbiamo, nella mia scuola, pensato sin da subito ad un approccio collegiale anche alla didattica a distanza. Cosa voglio dire? Ciascuna classe, la prima A, la terza F, la quinta B, hanno un loro corrispettivo virtuale, un loro classroom, che però è un unico luogo per tutti i ragazzi e per tutti i docenti. È stato complicato, diciamo così, organizzarlo, ma ci siamo. E questo è importante perché adesso abbiamo aggiunto a questo le video classi. Ogni classe ha la sua classroom, ha anche la sua Meet Room, non ha la sua Google Meet Room, cioè ha una videoclasse di riferimento. È bello anche fare video lezioni e scambiarci un po' i ragazzi al cambio dell'ora, che non esiste con la campanella, con i colleghi che si alternano nella stessa stanza, diciamo così, video. L'approccio con la didattica a distanza è stato per noi importantissimo perché abbiamo riscoperto, abbiamo potuto aggiungere ai compiti che magari si potevano dare in maniera fredda tramite classroom, un approccio proprio visivo, quasi fisico. Per molte colleghe che mi hanno espresso, diciamo, anche dei ringraziamenti a questo punto di vista e a tanta commozione, è stato bello poter vedere i propri ragazzi, nonostante essere la ritrosia, diciamo, alle nuove tecnologie. Qualche collega adesso sta per andare in pensione, non ci aveva provato più di tanto, si è buttata e ha scoperto questa possibilità di questo approccio, di entrare ecco nelle case dei propri ragazzi. Credo che sia questo, in conclusione, in definitiva, un po' la marcia in più. Dobbiamo dare un'anima a questa formazione a distanza, a questa didattica a distanza. Non può essere il mero assegnamento di compiti, né può essere la classica lezione così, anche con la telecamera, deve essere un qualcosa in più. Noi stiamo entrando reciprocamente gli uni nelle case degli altri, i ragazzi nelle nostre case di prof e i prof entrano nelle case dei ragazzi. Io ho capito, credo di aver capito in maniera definitiva, cosa significhi per me questa didattica a distanza quando ho fatto, ecco, tra una lezione e l'altra ho dato una mano anche ai miei figli, sono di 16 e di 14 anni e anche loro fanno così, didattica a distanza. Quindi tra una lezione con i miei ragazzi, una lezione con i miei figli, io a un certo punto ho avuto un attimo, così, un pensiero. Didattica a distanza, D a D, DED. Ecco la marcia in più. Quindi è un prof che diventa un po' anche il DED, il papà. Perché entrare nelle camerette dei nostri ragazzi lo fanno i genitori. E quindi grazie ai miei ragazzi mi hanno permesso di entrare nelle loro camere. Ho ricambiato con l'invito ad entrare nella mia, nel mio studio, nella mia camera. E credo che questo sia forse la scommessa più importante. Questo dare un'anima, dare un volto, dare delle voci a delle persone, dare una marcia in più. E ce la faremo, ce la faremo tutti insieme.